Carl Gabel ha detto che oggi c'erano 30 centimetri di neve fresca e non sta sbagliando, sta nevicando di bestia. Questa spedizione sembra veramente di essere in castigo con la neve. E dice che entro questo weekend ne arriva un altro metro e mezzo, spero che non sia così, perché si è giunti ai due metri e mezzo che già ci sono, dove cacchio andiamo? Cami! Nebica! Ah, strano!